Intro Eeeeeee Benvenuti in questo nuovissimo video Siamo trovati qua in un video leggendario ragazzi Perché oggi siamo qua ragazzi Come vedete ragazzi dallo schermo Nel terzo account andremo a shoppare una skin Leggendaria come avete detto Anche visto dalla miniatura e letto dal titolo Di Jesse ragazzi quindi togliamo Spike E andiamo a mettere Jesse ragazzi Andiamo a shopparla questo video uscirà un botto Dopo il momento in cui lo sto registrando Perché sto registrando questo video Il Quasi il primo maggio se non mi sbaglio Se non mi sbaglio circa comunque ragazzi Sì no il primo maggio lo so Vi chiedo ragazzi un like, un'iscrizione alla campanella per questa shoppata sul terzo account Condividetevi tutti i vostri amici Seguidemi su TikTok e su Discord Quinti settimi link in descrizione Sesto link in descrizione per diventare il mio server Discord Primo link in descrizione per abbonarvi Secondo link in descrizione per comprare i miei short Per usare edixmax Terzo link in descrizione per fare una piccola domazione E quarto link in descrizione Mettete tutti il codice creatore edixmax Su Fortnite Epic Games Tra l'altro ragazzi finalmente ragazzi Il 29 maggio Uscirà globale Squadbusters edixmax Per un mese Quindi dal 29 maggio al 30 giugno Avrà il codice creatore edixmax Su Anche su Squadbusters Supercell Quindi ragazzi mi raccomando Mettetelo tutti Quando esce globale Lo porteremo in live Ci divertiremo come Matt Ora ragazzi La skin in questione è questa qui Ragazzi che costa 39 gemme Al posto di 149 Sul main account ragazzi Non la sciopo Perché ho una skin rarissima di Jesse Quindi non la utilizzerai Quindi sono gemme buttate Ma siccome Qui ragazzi come avete visto Non ho altre skin di Jesse Per la golden week Andiamo a prendere La skin di Jesse Ragazzi che vale 149 gemme 5000 bling Oppure 39 gemme Ragazzi oggi Il giorno in cui sto registrando Questo video Quindi ragazzi Andiamo a prendere questa skin Tra l'altro abbiamo pure La reazione esclusiva Ragazzi chiedo solamente un like Per favore mettetelo Mettete anche il codice creatore Edixmax Su tutti i giochi In cui c'ho il codice creatore Andiamo a prendere ragazzi Sono soddisfatto È una grande skin Dal terzo account Almeno ce l'ho pure qua Attiviamola ora Abbiamo pure ragazzi La reazione è bellissima Adesso andiamo a provare Questa skin Bellissima 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 Ok Molto bene Andiamo a metterla ragazzi Veramente bella La reazione c'è già giusto? No? L'abbiamo ancora messa? Al posto di questa reazione Andiamo a mettere questa ragazzi Veramente bella Bella Molto molto bella Sono contentissimo Bellissima questa skin Andiamo a provarla Ragazzi mi è venuta Questa strana idea Di provare Questa Jessie Questa skin di Jessie Nelle candidate Nelle candidate Quindi andiamo a provarla Proprio nel candidate Vai 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 Scrivetevi voi nei commenti Se anche voi avete ciò Guardo questa offerta Della golden week Se vi ricordate quando c'era Perché questo video Ucirà un botto di tempo dopo Scrivetevi nei commenti Che sono così E sono molto curioso Andiamo a provare Prima mappa Andiamo a fare Due o tre partite Quindi ragazzi Andiamo a vedere Sono ancora argento Vabbè Non so che Non è inutile Che sia processificata Però Sono argento No ma belli Sono belli anche i colpi Andiamo a fare la reazione Ho sbagliato la reazione Ovviamente Max Tengo uno scarso un No ma sono belli Proprio belli i colpi Belli 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 Fatto proprio bene Fatto proprio bene 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 Ragazzi Sono molto soddisfatto Bravo di Max Se voglio vedere la torretta Appena posso Facciamo la reazione Bellissima sta reazione Ragazzi Bellissima Voglio vedere anche la ulti Però volevo anche Non sprecarla Come una bella ulti Con il gadget Anche se qua Segnano Questa Edgar Va a segnare Ragazzi Ho giocato male io Alla torretta Ragazzi Solamente che avevo Fretto di riprovarle Quindi l'ho provato Andiamo a fare la reazione Di nuovo No veramente bella Non mi devi laggare Non mi devi laggare Prostazze Non è bruttissima Sta mappa Ok Facciamo dei bei danni Ragazzi Molto bene Con la torretta Perfetto Bravo di Max Bella torretta Allora se mi avessate Quei ricco È gol Perché io giro Con la ultima Gol Bravo di Max Belli gol Ragazzi Avete visto che preciso All'angolino Bravo di Max Andiamo a fare la reazione No Bella 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 Sono proprio soddisfatto Di aver preso sta skin Proprio soddisfatto Di averla presa Ragazzi Tanta gente poi Ragazzi Il giorno prima che Registavo questo video Mi ha consigliato Di show palla Perché conviene un botto Dai se i pro ragazzi Però se non segnano i pro È proprio un gran problema Perché come fai a non segnare Mi chiedo io So che c'è BB So che c'è Stecca con la ulti Quindi la butto via La palla Qui c'è un Edgar Forse ho messo Sbagliato Per mettere la ulti Lo ho messo malissimo L'ho messa malissimo La ulti Ragazzi L'ho messa malissimo Però dovrebbe essere Niente Non è gol Dai bro Come fai a sbagliare Davanti alla porta Però anche te Cioè No ragazzi Io veramente Mi sto veramente Bittando Veramente Non ho più parole La mia ulti Ragazzi Cosa può fare da lì Ragazzi ma come fa Uno sbaglia davanti alla porta Ragazzi Ho capito che Siamo bassi Ma ragazzi Ma essere così Scarsi Sì veramente Tanto non vinco niente Non perdo niente Se la perdo Però Meglio vincere O no che perdere Chi è una ulti lì Che può dare fastidio Stecca Con il gadget Ragazzi Abbiamo finito i gadget Tra l'altro Quindi Bisogna stare molto attenti Forse è una migliorata Il gadget del rallentamento Ora che ci penso Però vabbè Non ci interessa È per provare la skin Quindi non ci può Fregare di più Allora Allora Qua è un po' un problema Bisogna giocare bene Bisogna giocare bene Bisogna giocare Un po' più bene 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 Devo colpire Il momento giusto E sparare Il momento giusto È veramente illegale Ragazzi Ok bella parata Bravo bro Bravissimo bro Non ho la ulti Per tirare Dai bro Se non segni Bro Ma come fai A sbagliare Davanti alla porta How can you Sbagliare Davanti alla porta Ragazzi Mi dispiacerebbe Veramente tanto Perdere questa partita Ragazzi Ragazzi No Aspetta La ulti Non la utilizzo Allora Guarda Se mi ammazzi Questo Wedger È vinta 15 secondi Non ho fatto Un tempo A tirare Ha fatto una bella Ulti Dai bro Tira con la ulti È persa No È pareggio È pareggio Vabbè ragazzi Non ci lamentiamo Per un pareggio Bella partita Bella partita Andiamo a fare Questa reazione La nuova skin Bellissima Con questa skin Mi piace un botto Mi piace veramente tantissimo Pareggio Un bel pareggio Va benissimo Va benissimo Ma sapete cosa Facciamoci un'altra Ripartita Lasciate un bel like A sti video Leggendari Ingocioppiamo questa skin qua A prezzi Bassissimi Perché sono bassissimi Sti prezzi Dandoli gemmi Oltre a shoppare skin Ragazzi Non le puoi utilizzare Per altra roba Quindi sono molto soddisfatto Ho fatto bene A shoppare questa skin Veramente molto bella Mi piace poi A prezzo così basso Perché non shopparla O no Quindi Andiamo avanti E il primo fa La sua bella ulti Che fa sicuramente male Sì però Frank quante caspita Di vita Ciao Io l'ho portato al 25 Solamente grazie alla sua vita Frank è veramente male Fa veramente male Perché ha tantissima vita Non va giù Frank ci fa una ulti a breve Frank ci fa la ulti a breve Allora Frank è stato molto bravo Però per me Sta tenendo troppo tempo Si sta risparmiando troppo la ulti O vuole farla un deface a noi O vuole aprirla avanti Non so cosa vuole fare Eh ma credo che sia con loro ragazzi Sono troppo resistenti Perché potrebbero muoversi un po' meglio Sono Troppo Non molto Troppo resistenti Ragazzi subito Ragazzi subito Uh non è entrata 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 Ma cosa ho fatto Perché non ho Perché Perché l'ha tolta Ho sbagliato Vabbè ragazzi Dai una win Una persa Ragazzi Spero vi sia piaciuto Questo video Lasciate un like Un'iscrizione Una campanella Condividete il video A tutti i vostri amici Mi raccomando ragazzi Seguirmi Seguirmi Su Discord Il codice creatore È 8xmax Quindi ragazzi Mettetelo tutti Faremo live di Squadbusters Sarà bellissimo È un gioco bello Mi raccomando Facciate un like E iscrivi Ciao ragazzi Tutti il codice creatore 8xmax Su tutti i giochi Quando è disponibile Il codice creatore Ciao ragazzi Su WP Games È sempre disponibile Ciao ragazzi Non mancate dopo in live C'è scritto in descrizione L'orario Ciao